Siamo qua a fare colazione in un posto bellissimo chiamato Dolomiti. Abbiamo qui una varietà di panini, brioche, cappucci, caffè. Dove è qua il cappucci? C'è la varietà. Fantastico, signori, vi presento l'uomo che ha inventato il vostro pane. Matteo, l'uomo che ha inventato il transistor. Bravissimo, complimenti, ottima invenzione. Marco, l'uomo che ha inventato la segna d'orbono. Complimenti, ottima invenzione. Bene. E dalla casa degli inventori, che è pericolosissima, faccio chiuso. Grazie a tutti. La vita adorata. Grazie a tutti. Ora ci qualcuno ci schiaccia. Grazie a tutti. 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 Siamo partiti come... Sta arrivando? Dopodiché mi darei una giuntina di ketchup. Ci vuole. E il tocco finale è la mitica mostarda. La mostarda quella cattiva. E' una scatata cattiva. Ecco qua. Fallo, per favore, fallo. E' un gruppo di... No, è che era blano. Ecco quello con lo spruzzino fino a... Ecco qua, soprattutto. Che schifo, cazzo. Vedi, vedi, poi fa la stessa cosa. Un mini Andrea. Un mini Andrea. Stai facendo, vedi? Critica, critica, applausi, poi guardalo. Non so se riesco a mangiarlo senza vomitare, visto che già avevo vomitato stanotte. No, vabbè, ma lì avevo un motivo. No, no, che... E' come un buco, i piedi. E mi sa che adesso ce ne avrà un'altra. Adesso vediamo cosa fa. Che cazzo è? Quanto lo cominciare va? Buono, eh? Buon, buonissimo, guarda. Ne vorresti un altro? Ancora, ancora. André. Dai, 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 André. André, 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 André. Sì, sarà puttana? Sì. Anche tu? Mm-hmm. Anche persone di fare queste cose. Come ne vediamo? Sì, sarà puttana? 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 Grazie per la visione!